E anche oggi le mie amate zucchine in sfiziosissimi e super croccanti stick di zucchine semplicissimi da preparare, corriamo in cucina, taglia le zucchine prima a pezzi, poi a fettine e di fine a piccoli bastoncini Mescli in una ciotola la farina con una presa di sale e l'acqua fredda per formare una pastella densa e liscia In un'altra ciotola mescola il pan grattato con la farina di mais e il parmigiano grattugiato Tuffa le zucchine nella pastella, poi nella panatura Mescola per bene facendo aderire tutte le parti e sistema i bastoncini di zucchine su una teglia foderata con carta da forno Un filo d'olio in superficie e lasciali cuocere in forno Eccoli qui, croccanti, buonissimi, corri in cucina, preparali anche tu!